A voi. Grazie. L'inflazione erode il risparmio delle famiglie. Lo testimoniano i dati della Fabi, il sindacato dei bancari, sui depositi nei conti correnti. Rispetto all'anno fa, gli italiani hanno 43 miliardi in meno depositati nelle banche. La Lombardia si conferma la regione più ricca, con 235 miliardi di depositi, seguono il Lazio e il Veneto.